Ragazzi vi devo raccontare una cosa troppo bella, sono emozionatissima! Allora devo organizzare una cena per degli amici super speciali, appassionati di vino e cibo buono e mi sono fatta trasportare dall'idea di preparare dei piatti a base di tartufo abbinando vini ad hoc L'esperienza non è mai abbastanza e quindi vai di Google e voilà! Come un cane segugio ho trovato il mio tesoro! Oggi mi è arrivato questo e vi chiederete perché è un libro? Perché ordinando delle bottiglie dal sito Wine & Truffle di Marcello nell'attesa dei vini mi ha mandato il libro di ricette tutte sue! D'essere deciso, zabaglione con tartufo bianco Ma adesso consigliatemi per il primo, gnocchi di zucca con amaretti e tartufo o risotto al tartufo? Cosa scelgo? Intanto visto che me lo state chiedendo in tantissimi vi lascio il link grazie a cui sono riuscita a entrare nel gustosissimo mondo di Marcello Eccolo qui! Un bacio!